Salve a tutti per l'equiderizzo di Linux adesso vado a fare una video lezione su come utilizzare la funzione crea lanciatore che si espone con il tasto destro del mouse sul desktop. Voi vedete qui già dei lanciatori fatti che accelerano e facilitano l'utilizzazione di questo computer che io ho fatto prima di fare questa video lezione a persone che potrebbero avere delle difficoltà di movimento. Questo è un monitor touch e per esempio io con il dito adesso lancio RaiNews, eccolo qui quindi una persona che avesse difficoltà di movimento, basta che usa le dita ecco, può ascoltare la radio come vedete può leggersi il giornale quindi noi possiamo organizzargli il computer se si apre tranquillamente per avere delle comodità eccolo qui, potrebbe leggersi il fatto quotidiano può ascoltare musica potrebbe aprire un programma di disegno se vuole disegnare ecco sto lavorando con le dita potrebbe aprire Skype per parlare a distanza e quindi avviare immediatamente una comunicazione se lo spengo oppure potrebbe partire con la posta elettronica immediatamente con un click senza bisogno di altro ovviamente l'apertura deve essere fatta con il programma che ha memorizzato le password se no apre Gmail e il generico non apre tutto quindi se noi immaginiamo un monitor pulito senza questa barra senza questa ma sarà una lezione sulle tecnologie assistive comunque per avviare velocemente dei software o delle posizioni ecco come si può fare quindi tasto destro sul monitor crea lanciatore il lanciatore questi sono tutti i lanciatori che io ho creato prima di cominciare questa video lezione creare un lanciatore è semplicissimo questa finestra qui potete lanciare un'applicazione per esempio io adesso voglio lanciare che ne so Gimp per disegnare il comando è Gimp ecco che è saltato fuori l'icona e qua lo scrivo disegnare disegnare professionale ecco ok ecco il lanciatore è creato eccolo qui e se io lo voglio lo posso ridimensionare vedete ridimensiona icona lo posso fare grande in maniera che diventa anche facile avviarlo ecco doppio clic e parte Gimp allora io questo lanciatore per i programmi che sono già nei menu io avrei potuto farlo da grafica perchè con il tasto destro sopra l'icona Gimp eccola qui crea lanciatore sulla scrivania quindi le due strade per fare la stessa cosa elimina adesso invece vediamo come creare un lanciatore che avvii non un'applicazione ma una posizione una posizione internet ovviamente e quindi io clicco crea lanciatore che crea una posizione il nome rifaccio quello lì di rai news così si vede che la faccio lo scrivo rai maiuscolo magari rai news 24 ecco in questo caso ho messo un trattino solo per lasciare spazio a vedersi all'icona qua invece scrivo la news24 quindi sotto l'icona verrà la news24 per mettere l'icona per evitare che venga una molla come lanciatore faccio doppio clic e vado a cercare un'immagine che rappresenti il mio lanciatore allora siccome io me l'avevo già preparata che è questa rai news24 semplicemente andando anzi faccio vedere basta andare a prendersi qui scrivo rai news24 immagini ecco siccome è una cosa nostra rai news24 news24 non mi preoccupo se è proprietaria o meno perchè tanto me la tengo non faccio altro che con la macchinetta fotografica selezionare la cattura di questa immagine live eccola qui la copio la salvo nelle immagini allora scrivo rai news24 live salva ecco adesso io ho quest'icona che mi può fare da icona al lanciatore quindi torno nella finestra lanciatore vedete sto usando anche i plurischermi con uno schermo faccio una cosa con l'altro faccio un'altra clicco immagini rai news24 live eccola qui apri quindi questa sarà l'icona del mio del mio lanciatore qual è la posizione che questo lanciatore a questo lanciatore punterà allora torno su internet e vado a cercarmi rai news24 io l'ho già preparata eccola qui voi che aspettate che lo fermo perchè sennò si sente lui e non si sente me allora copio il collegamento ho copiato il collegamento e lo metto nella posizione la allora questo lanciatore che si chiamerà rai news24 con quell'immagine lì sarà la mia posso fare anche a meno di commentarla sarà il mio lanciatore di co ok eccolo qua questo è rai news24 troppo piccolo per essere utilizzato con le mani quindi ridimensiona icona e lo ingrandisco ovviamente più lo ingrandisco più parte definizione però vedete che insomma ecco questa si chiama rai news24 quindi io adesso lo metto qua con il dito lo avvio tac è partito vedete con il dito lo gestisco e me lo godo quindi voi capite che potete fare del bene ad aiutare le persone che hanno difficoltà ad usare un pc con adesso terribile non smette mai facendovi dei lanciatori potete fare lanciatore di qualsiasi sito di qualsiasi posizione o sottosito radio tv giornali quello che vi pare il lanciatore ha anche un'altra funzione che è questa applicazione nel terminale ma però io non lo spiego perchè è uno step diciamo non da utilizzo casalingo i programmi che sono stati installati con il codice binario devono essere lanciati da un comando da terminale e questo comando va messo qua quindi se io voglio lanciare un programma che non è un programma visuale però noi su di linux abbiamo fatto in modo che sia tutto visuale come un mac e come un windows anzi un windows come un linux tutto là quindi non c'è altro da dire per i lanciatori godetevi questa facilitazione d'uso e se avete un monitor touch vi risulterà molto facile far partire le vostre posizioni internet per accedere ai servizi che volete buona sperimentazione con la creazione dei lanciatori per le guide di Sodi Linux Francesco Fusillo